è stata una partita innanzitutto molto difficile avversari forti sapevamo che comunque era una squadra molto giovane come noi ben preparati abbiamo provato a muovere il pallone più velocemente possibile una azione da parte dall'altra veramente una bella partita ma i punti di forza comunque secondo me è il gruppo perché comunque anche se facciamo errori oggi anche abbiamo sbagliato tanto anche se abbiamo costruito bene sotto porta bisogna essere più cattivi sicuramente quella è una cosa che ci manca al momento io non entro nello spogliatoio oggi l'ho fatto io ho detto ai ragazzi a prescindere da quello che sarà il risponso del campo ho detto voglio per quanti siete voglio dei leoni delle persone che giochino con la bava alla bocca e che diano l'anima oggi l'hanno fatto siamo abbastanza soddisfatti anche se abbiamo sprecato tantissimo però comunque era importante che andassimo a punti ripeto probabilmente un risultato che a noi ci sta stretti però complessivamente insomma se il risponso del campo è questo va accettato con l'occasione che sto qui e che ciò grifoni a fianco l'occasione per fargli i complimenti anche perché Valentino che è un bravissimo ragazzo oggi ha fatto l'esordio dopo tanti mesi di inattività quindi con l'occasione gli faccio i complimenti come faccio i complimenti a tutta quanta la squadra che ripeto oggi ha lottato in campo e purtroppo non ha probabilmente raccolto per quello che ha seminato comunque continueremo a lavorare sodo grazie a tutti